E' necessario rispettare le misure di sicurezza anticontagio innanzitutto a tutela della salute di tutte e tutti noi. Come vedete abbiamo organizzato anche con dei segni per terra per mantenere le distanze. Ovviamente invito tutti ad allargarvi sull'intero piazzale e non stare alla distanza inferiore di un metro. Come sindacati conflittuali abbiamo detto ai lavoratori di astenersi dal lavoro. Abbiamo detto ai lavoratori che sarebbe stato un conflitto diverso da quelli che normalmente abbiamo vissuto in questi anni. Non era una richiesta di un contratto integrativo, non era la richiesta di un buono pasto, neanche la richiesta di un'ora di assemblea. Ma dobbiamo difendere la nostra vita, mettere al centro la nostra salute e la vita come concetto universale. Sulla scuola non c'è un'idea e non ci sono soldi. Quindi seconda cosa bisogna che ci danno i soldi, che danno i soldi per ripensare completamente la scuola. E' una scuola di comunità fatta insieme alle tante tante realtà che in questo momento possono dare una risposta alla crisi. Ma tutto questo non si vede vergogna. Noi lo sappiamo, i ragazzi e i bambini lo sanno meglio di noi e ve la faranno pagare. E' un prescidio, una manifestazione di necessità. La necessità di quelle decine di migliaia di lavoratrici, di lavoratori, di disoccupati, di precari, di studenti che in questo territorio come negli altri territori di questo paese non hanno trovato risposte dal governo nazionale e dal governo locale. Abbiamo trovato propaganda, ma noi a questa propaganda abbiamo risposto con un pensiero molto semplice che ci è stato detto ma che va ribadito. Se siamo obbligati a lavorare, allora è un diritto protestare, scioperare, manifestare. Senza conflitto sindacale, senza conflitto sociale, la crisi saremo costretti a pagarla ancora noi, i lavoratori, i settori popolari. Ma noi questa crisi non la paghiamo, non è più lo slogan degli anni passati.